Una dance opera di alto livello con musiche originali create dal compositore Alberto Masoni e l'interpretazione coreografica dei ballerini professionisti della Pavlova International Art School Ballet di Bergamo. È Dreamers, viaggi tra danza e narrazione, un affascinante percorso fatto di suggestioni, emozioni e tanto talento. Io ho cercato un po' di mettere insieme le musiche classiche con lo rock, che è l'altro filone con cui diciamo sono cresciuto e ho cercato un po' di fare un mix di classica rock e di costruire quest'opera con questo connubio. Domenica 17 giugno sul palco del Teatro Donizetti di Bergamo saleranno 20 artisti di alto calibro, ballerini del Bolshoi di Mosca, dell'Opera di Parigi e della Scala di Milano, un impegno stretto con la società Drago Moro, produttrice dell'evento. Non è assolutamente semplice perché richiedono ottima qualità, è giusto così, finalmente così e noi con grande soddisfazione portiamo avanti questo impegno. Una favola dei nostri tempi, Dreamers, una storia d'amore rivisitata in chiave moderna che vanta anche il patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune di Bergamo. Un eccezionale tour che parte proprio dalla città orobica e pronto a girare per il mondo. Abbiamo già preso contatti con Firenze, sarà in programma a luglio, credo il 7 luglio, poi ci sarà Trento, ci saranno tappe europee come Salisburgo, Parigi e Londra.